ehi what's up a tutti c'è ormai benvenuti raggio green in questo stranissimo video c'è robin in sottofondo che è nella lettiera però vabbè che dire effettivamente un video totalmente aspettato perché c'è l'idea me l'ha data rodrigo e ho detto ma perché visto che ho provato a fa' sta cosa non ti riprendi magari ci fai un video magari mi piace alla gente insomma per cui quest'oggi ragazzi mi vedrete cimentarmi per la prima volta in assoluto nella mia vita nella preparazione dei ma chi ci sarebbe a dire ovviamente un elemento del sushi in generale ho comprato il riso nello specifico ragazzi per sushi dopodiché abbiamo preso il sushi nori che sarebbe appunto l'anga ragazzi che ovviamente sappiamo benissimo circonda i maki abbiamo preso anche la insomma tavoletta tovaglietta di bambù ecco chiamiamola così la aprirò insieme a voi in questo esatto unbozzing unbozzing che sarebbe questa qua che ovviamente servirà per arrotolare i maki 75 centesimi dopodiché abbiamo comprato l'aceto di riso perché per condire il riso del sushi ci vuole quindi nello specifico l'aceto di riso quindi non va bene a quanto pare altro tipo di aceto dopodiché noi ragazzi metteremo all'interno dei maki siccome siamo poveri non abbiamo potuto comprare il pesce il pesce vero e proprio ci sarebbe a dire tipo salmone o ste robe qua ci metteremo all'interno del tonno scatola ovviamente la scatoletta poverissima del cetriolo che adesso è in frigo lo prenderò dopo l'ha dovuto prendere per forza il cetriolo cetriolone in ogni caso è la prima volta quindi è stato un esperimento sapete non abbiamo dovuto rischiare comprando pesce costoso adesso ragazzi è arrivato il momento di iniziare la preparazione del riso che è ovviamente la parte più importante del sushi sta cosetta a mare brava sei bella mettiti comoda quanto riso facciamo siccome questo è mezzo chilo di riso ragazzi e qua mette ingredienti per quattro persone visto che noi siamo due ovviamente peserò 250 grammi di riso il riso è nella ciotola procedimento importantissimo per la preparazione del riso da sushi ragazzi è il lavaggio del riso ora non è che so ste cose perché sono una maestra ho guardato dei tutorial ovviamente prima di fare il video il lavaggio del riso è assolutamente importante ragazzi cosa importantissima ragazzi lavatevi sempre le mani prima di cucinare o di mangiare abbiate sempre una piccola robin noterete ragazzi che ovviamente l'acqua risulterà essere sporca il primo lavaggio non bisogna toccarlo il riso perlomeno questo diceva la giapponese nel video che ho visto poc'anzi quindi bisogna lasciarlo lì un attimo cioè il primo lavaggio il riso non va toccato con le mani diciamo esatto ovviamente scoliamo il riso lo rimettiamo nel suo recipiente non so se si vede bene che l'acqua è opaca ragazzi bisognerà effettuare dei lavaggi ovviamente sempre con acqua pulita quindi non usate la stessa acqua fino a quando l'acqua non risulterà essere trasparente vedete come diventa bianca acqua e soppone acqua e soppone giochi e falzussi giochi e giochi e falzussi questo procedimento l'ha fatto circa 77 volte poi dipende insomma ognuno lo lava quante volte vuole ma l'importante è che l'acqua almeno risulti un minimo trasparente ok ragazzi allora io penso di averlo lavato minimo almeno sei o sette volte ora non ho tenuto il conto fatto sta che ovviamente non è che vi potete aspettare che l'acqua sia cristallina però già notiamo una certa differenza rispetto al primo lavaggio per cui adesso lo scolerò coraggio robin ci aiuta vero amore adesso ragazzi verserò il riso all'interno della pentola che ovviamente userò per cuocerlo in un tutorial la tipa va detto che bisogna ricoprire il riso e mettere almeno un pochettino più di acqua ovviamente non deve né essere troppo poca ragazzi né troppa ovviamente ragazzi questa è la prima volta che lo cucino per cui devo soltanto sperare insomma che queste quantità possano andare bene per quanto riguarda la cottura ragazzi è importante che la pentola sia sempre coperta quindi mettiamo il coperchio già da subito il fuoco va messo alto mi sembra almeno fino a quando raggiunge il bollore ragazzi una volta che l'acqua ha raggiunto il bollore sempre lasciando la pentola chiusa si abbasserà il fuoco si metterà piano e si farà cuocere con il riso per 15 minuti dal momento in cui bolle 15 minuti al minimo esatto attendiamo ci vediamo tra poco allora ragazzi abbiamo messo il riso sul fuoco aspettiamo ovviamente che bolla quindi che poi si cuoccia una volta ragazzi che sono passati 15 minuti si spegne il fuoco e si lascia il riso a riposare per una decina di minuti dopo di che una volta che il riso avrà fatto il suo riposino si potrà condire ovviamente con la salsa con il condimento che andremo a preparare adesso apro l'aceto di riso il tipo del supermercato ha detto che c'è un odore pessimo no non è pessimo l'odore sa di aceto quanto riguarda le dosi adesso ragazzi non ci sono dosaggi proprio specifici dipende dalla quantità di riso che si deve fare ovviamente il condimento non deve essere eccessivo perché sennò dopo il riso si impregna troppo di aceto ora considerando ragazzi che sulla confezione del riso per sushi dice di fare due parti di aceto però noi pensiamo che sia per 500 grammi di riso per cui visto che noi abbiamo fatto la metà useremo ovviamente le quantità dimezzate quindi adesso io metterò un cucchiaio di aceto di riso che mi sembra molto poco però vabbè vuoi metterne due? rischiamo? sembra troppo poca ragazzi poi ovviamente adesso ad occhio non mi posso rendere conto e adesso metterò due cucchiai di aceto in caso poi dovesse sembrarmi troppo per la quantità di riso non la metterò tutta ovviamente la salsa per cui ne aggiungo un altro ragazzi sia chiaro che questo non è un tutorial su come fare il sushi è il mio video che preparo il sushi per cui non vorrei che la gente prendesse queste come informazioni serie capite? è la tua esperienza di vita esatto esatto allora erano due parti di aceto una parte ragazzi quindi in questo caso sarebbe dire un cucchiaio di zucchero si avete capito bene di zucchero ok direi che così può bastare e mezzo di sale ecco fatto ok ragazzi dopo aver messo i vari ingredienti insieme è importante mischiare bene il tutto fin quando ovviamente lo zucchero e il sale si saranno sciolti per bene adesso che abbiamo fatto questo poi non ci resterà ragazzi che preparare gli altri ingredienti adesso taglierò il cetriolo e niente aspettiamo con impazienza la cottura del riso intanto che il riso finisce a ricuocersi ragazzi mi sono già tagliata a listarelle il cetriolo perché ovviamente andranno messe per lungo sull'alga e sul riso è passato un quarto d'ora ragazzi io spengo il riso e adesso vi farò vedere che sicuramente l'acqua si sarà tutta prosciugata ragazzi guardate un po' vedete che il riso è cotto adesso lo lascerò ancora una decina di minuti ragazzi all'interno della pentola stessa per farlo riposare un po' ok ragazzi Rodrigo eroe nazionale così perché è sceso a prendere il salmone affumicato perché ho visto in un video un ragazzo che all'interno dei macchi metteva il salmone affumicato per cui oltre il tonno ne faremo qualcuno anche quel salmone affumicato sei contento amore? sì così così sì sì tanto dai ci vediamo ragazzi quando il riso avrà riposato il salmone è stato tagliato a strisciole il risotto ha riposato il momento è giunto prendo una ciotola ragazzi per versarci il riso la consistenza penso che sia abbastanza giusta ragazzi perché ovviamente è colloso adesso il riso mettetelo ragazzi in una ciotola che sia abbastanza larga perché il riso ovviamente deve avere il tempo per raffreddarsi e intiepirsi un po' prima di lavorarlo adesso andrò ad aggiungere la salsa di aceto che ho preparato prima che effettivamente mi sembra un po' poca però sapete è meglio non esagerare nel caso io non l'ho messa tutta ragazzi perché appunto vorrei evitare magari quel sapore risulti troppo forte adesso lo assaggio ragazzi aggiungereste ancora un po'? io penso che finirò di metterla ragazzi vai anche perché la cosa buona del riso è proprio quel sapore lì di quella salsa visto che a me piace e anche a Rodrigo piace direi che magari un sapore un po' più deciso non dovrebbe disturbarci troppo vai vai andiamo a dimascolare e ci vediamo per il prossimo passaggio ok ragazzi ci siamo il riso si è intiepidito per fortuna per cui prenderemo la nostra tavolozza chiamiamola così di bambù e piccolo dettaglio importante ragazzi avvolgerla con la pellicola trasparente da cucina non so se riuscite a vedere bene ma eviterà ovviamente alla tavolozza di impregnarsi sapete degli odori del cibo eccetera comunque più igienico ecco mettiamolo così per cui è bene appoggerla nella pellicola io già l'ho fatto quindi mi metterò la tavolozza qui pronta ad accogliere le alghe che non ho ancora aperto lo farò insieme a voi ok ok apriamo all'interno delle buste ragazzi delle alghe di solito mettono questo affare qua che serve tipo a proteggere diciamo le alghe dall'umidità ma questi affari non vanno mangiati per cui lasciateli all'interno della busta prendiamo l'alga il foglio di alghe eccolo qua ed è importante ragazzi che la parte più lucida sia all'esterno rivolta verso l'alto grosso errore ragazzi ho scoperto dopo quella volta che la parte più lucida dell'alga va messa all'esterno quindi bisogna rivolgerla verso il basso la si posiziona sulla tavolozza di bambù importante ragazzi avere una ciotola con dell'acqua perché bisogna inumidirsi le mani prima di poter prendere il riso visto che è molto appiccicoso adesso è arrivato il momento ragazzi di posizionare il riso lo posizioneremo sui due terzi dell'alga per cui un po' più di metà più o meno fino a qua importante non riempirlo di riso fino all'inverosimile bisogna cominciare a spargere un po' il riso ovviamente ragazzi cercate di fare uno strato uniforme di riso ok ragazzi dovremmo esserci più o meno adesso andremo a posizionare il condimento ragazzi cetriolo al centro del riso ci metto il cetriolo questo primo ma chi direi che lo farò col salmone lo metto più al lato del cetriolo ragazzi così magari poi si avvolge tutto per bene questo ragazzi magari la quantità degli ingredienti è un po' scarsa però preferisco magari farne di più sapete che riempirli fino all'inverosimile ok è arrivato il momento della verità ragazzi incominciare ad arrotolarlo quando andate avvolgendo andate compattando il tutto ok andiamo sempre stringendo e dandogli la forma ovviamente ragazzi cilindrica ma fare un salsiccione esatto di nuovo ogni step direi che è bene ragazzi compattarlo ed ecco qua dovremo esserci ovviamente ha un aspetto pessimo però diciamo che il risultato per essere la prima volta ragazzi è abbastanza accettabile bisogna ovviamente affettarlo è importantissimo ragazzi che anche la lama del coltello sia bagnatice insomma almeno umida affinché il riso non si attacchi ovviamente la lama e che sia ben affilata vediamo se riusciamo nell'impresa ragazzi e voilà ovviamente ragazzi le parti esterne sono quelle che sono un po' più così approssimative però per il resto insomma ovviamente la quantità dell'ingrediente il resto è molto esigua però non ci si può lamentare io quasi quasi già lo provo che c'è è buonissimo ragazzi sei soddisfatta? sono contentissima va bene ragazzi adesso ho fatto quello col salmone ne farò un altro col tonno ok ragazzi ho spalmato di nuovo il riso sull'alga adesso ci metterò la strisciolina di cetriolo ne metterei due per rotolo ragazzi perché se no veramente avete visto l'ingrediente poi all'interno è veramente troppo esiguo più il tonno ragazzi Roby l'ha già sentito ovviamente idiotta di tonno profumo del tonno ok è arrivato di nuovo il momento di arrotolare attenzione amici da casa primo semigiro ovviamente ragazzi dovete se gli ingredienti sono abbastanza bisogna cercare di tenerli il più possibile all'interno del riso per quanto possibile ovviamente ok forse ce l'abbiamo fatta dovremmo esserci ok ragazzi più o meno ce l'abbiamo fatto ovviamente è uscito un po' di riso un po' di tonno se c'è qualcuno che guarda questo video che ha un po' di esperienza in più se ci vuole dare qualche dritta ovviamente bene accetta vedete che già c'è almeno un po' più di ripieno bene ragazzi adesso ovviamente vi risparmiamo la preparazione degli altri l'importante era vedere come farli ci vediamo alla fine del video ok ragazzi l'impresa è stata portata a termine fortunatamente noi ci eravamo già muniti delle bacchette per mangiare questi incredibili maki che ovviamente per essere la prima volta ragazzi non saranno neanche da vedere ma di sicuro sono buonissimi il riso è uscito perfetto oserei dire per cui io direi che sono più che soddisfatta del risultato della mia prima volta col sushi e con un pochettino di riso che è avanzato sono riuscita a fare pure una specie di simili nigiri che ovviamente non è un nigiri vero e proprio eccolo qua ovviamente sta per cadere il salmone ha fumicato sopra mi sta cadendo ragazzi scusate per cui veramente non posso lamentarmi ragazzi sono contentissima spero che questo video vi sia piaciuto insomma che vi abbia fatto svagare un po' io vi ringrazio vi invito a lasciare un mi piace se appunto il video vi è piaciuto vi mando un saluto un bacione anche da Rodrigo si ciao a tutti io bodosho a tutti ragazzi ciao cioè noi abbiamo usato le bacchette già almeno tipo tre volte e non ho ancora imparato come si usa dai vediamo prendi i toniciri e mangiatelo ah no un pezzo di salmone oh ciao giocherina ciao ragazzi alla prossima ce ne andiamo ciao